Dai dai, i batti erano questi. Ah, lo so, ma è pazzesco. Sì, potrebbe anche sembrare pazzesco. Eh sì. E invece è una cosa sensatissima. Mi devi un favore. Ah sì, lo so, ma... Quando ti è venuta l'idea? Circa tre anni fa. Ah, però è pazzesco. Senti, Stallone, vedi, quando hai vinto quell'incontro, hai vinto per un secondo, mi hai battuto per un solo secondo. È una cosa difficile da ingoiare per un uomo come me. Va bene, ma non avevi detto che dopo che ti ho battuto ti eri rassegnato l'idea? Era una bugia. Ah, era una bugia. E quindi adesso devi dimostrare a te stesso che sei più forte, eh? Sì, solo a me stesso. Niente tv, niente giornali, soltanto due. Niente, solo te e me. La tecnica contro la potenza. Mettila come vuoi. D'accordo. Sei tu che l'hai voluto, eh? Ok. Però dammi letta porlo, è meglio che ci fai piano perché non sei più un ragazzino, sai no? Sono abbastanza giovane da darti una bella strapazzata. Ah sì? E come fai a vincere? Mi hai insegnato tutti i trucchi che conosci. Non tutti, quasi tutti. Devi ricordarti che tu sei un grande combattente, ma io sono un grande pugno. Ah, sei pronto? Certo, come? Lo sai, Rocky? È un peccato che dobbiamo invecchiare, non credi? Dai, dai, vieni sotto con me. Sono la campana, dai. Va bene. Dì? Dì? Forza, Stallone. Forza. Forza. Però ti muovi bene per essere un nonnetto, eh? Sì, l'ultima forma. Ti ho allenato proprio bene. Io credo che mi hai allenato troppo bene. Che fai scappando? No, no, vieni qui. Io non scappo, ti aspetto. Su. Forza. Ho paura di farti male. Non ti preoccupare, tu comincia. Coraggio. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Lysing up to the challenge of our rival. And the last of no survivors looks his way in the night. And he's watching us open the eye of the tiger.